Saluto a tutti e un buon ascolto di questa mia crescente Sono Cosimo Mascolo, sono un compositore e arrangiatore di brani musicali La musica è una mia passione, la musica è una mia passione Oltre alla composizione, ho un bagaglio di 55 anni di esperienza live con band e piano bar Oltre alla composizione, ho un bel tipo di esperienza un saluto a tutti e un buon ascolto di questa mia canzone sono Cosimo Mascolo, sono un compositore e organizzatore di brani musicali